Bentornati ad un nuovo appuntamento con la riccioleria. Oggi ci addentriamo in un campo minato. Ho chiamato questo video la giungla dei prodotti. L'ho evitato fino a questo momento, poi giustamente nei vostri commenti, che mi fanno molto piacere, mi domandate qual è il prodotto migliore da applicare sui ricci. Partiamo dal presupposto che è impossibile rispondere a questa domanda nell'arco di un video, ma proverò a fare un po' di chiarezza su alcuni punti. Innanzitutto, partiamo dalla mia storia e come ho detto in altri video, io sono una parrucchiera che non andava dal parrucchiere per svariati traumi subiti sui miei capelli, per cui non conoscevo, nemmeno non mi affidavo al mio parrucchiere per l'utilizzo dei prodotti, ma compravo prodotti da banco al supermercato, quelli che mi sembravano migliori, eccetera. Solo dopo, cominciando a fare questo lavoro, ho capito il divario che c'è fra l'utilizzare prodotti qualitativamente alti e professionali da prodotti più commerciali. Questo è proprio tangibile sui miei capelli e sui capelli delle mie clienti. Dunque, sviscero subito un argomento spinoso, appunto come ho detto all'inizio, ed è che i siliconi sono davvero così dannosi per i capelli, anche se ormai fonti autorevoli, quindi chimici, cosmetologi, hanno smentito questa notizia. Cercherò di essere più semplice, concisa e chiara su questo argomento. I siliconi di per sé non sono dannosi per i capelli. I siliconi sono derivati dal silicio, che fra l'altro è un metalloide ed è il secondo elemento in natura più presente dopo l'ossigeno. Hanno un'azione emolliente sul capello, quindi danno al tatto una sensazione di morbidezza, di setosità. Hanno un'azione di barriera filmante, per cui vengono l'idratazione. Dunque, perché viene detto che i siliconi sono dannosi da alcune persone o ne siamo convinti? Io per prima sono caduta in questa trappola. Un po' le informazioni che ci arrivano da ogni parte. A volte non abbiamo le competenze fino a che non ci addentriamo nell'argomento, non abbiamo le competenze per affrontare determinati e determinati argomenti e ci fidiamo dell'informazione che ci arriva. Il sinicone, se è vero che non appunto non è dannoso, è pur vero che non apporta nutrimento al capello. Ha un'azione cosmetica di bellezza, rende il capello più bello, più lucido. Di per sé, quindi, va da sé che se compriamo magari un prodotto commerciale che oltre al silicone ha soltanto qualche conservante, un po' di profumo, quel prodotto non farà sicuramente bene al nostro capello. Bisogna vedere qualitativamente, quantitativamente quanto silicone c'è all'interno. Il silicone, quindi, non apporta nutrimento in più, ma se legato ad altri componenti, magari di origine naturale, ne può potenziare appunto i benefici cosmetici. Quindi, per esempio, prendo una spuma del genere. Ha un inci molto pieno di prodotti di origine botanica, dove, come riconoscete se il prodotto è di origine botanica, ha la denominazione in latino. Quindi, quando voi trovate in un inci, che è la lista degli ingredienti dietro a un prodotto, dei nomi in latino, di piante in latino, vuol dire che quell'elemento è puro. Da solo, senza elementi chimici, non riusciamo ad ottenere un effetto cosmetico potenziante. È vero che esistono tanti prodotti biologici che non contengono appunto elementi chimici, eccetera. Qui, ovviamente, anche un gusto personale può essere una scelta magari ambientale. Perché? Perché se già ha un punto sfavorevole il silicone è quello di uno smaltimento più lento a livello ambientale. Ovviamente, cosa fa la differenza? Quanto silicone c'è? Per dire, nel gel che io utilizzo maggiormente in negozio e soprattutto su di me, sui miei bambini, eccetera, il silicone è alla fine veramente della lista degli ingredienti. La parte centrale, una buona parte, è composta da elementi botanici. Oltretutto c'è da dire che in un prodotto professionale io utilizzerò una minor quantità di prodotto, me ne occorrerà meno. Quindi anche lo smaltimento sarà meno dannoso. Se quindi la scelta ambientale di non utilizzare silicone io non mi pronuncio e la rispetto. Poi il mio modestissimo parere è che noi tutti i giorni compiamo azioni a volte inconsapevoli, che ambientalmente sono anche più dannose di questa. E qui lo sappiamo, l'argomento è complesso, è delicato e non vado oltre. Quindi se volete sapere se la risposta è che il silicone danneggia i capelli, no. Fa bene ai capelli? No. Ha un'azione cosmetica. Se unito ad altri elementi quali qualitativamente alti, ne potenzia appunto la performance sui vostri capelli. Detto questo, quindi quale utilizzo per i miei capelli? Anche qui non posso darvi una risposta precisa in un unico video. Mi riprometto di sviscerare. Io in negozio utilizzo prodotti Paul Mitchell e Ashet e per la loro qualità ormai sperimentata sui capelli delle mie clienti, sui miei, su prodotti che non lasciano residui, che danno un grande nutrimento, idratazione ai capelli. Sono veramente tantissimi, come potete vedere, dalle spume a gel liquidi, creme, gel in crema. Poi abbiamo tutta una serie di idratanti senza risciacquo, i famosi leave in conditioner che vengono utilizzati in tantissimi metodi per asciugature ricce. diciamo che dopo l'applicazione di uno shampoo e un conditioner che devono essere, come ho già detto in altri video, a mio parere consigliati dal vostro parrucchiere di fiducia in base alla vostra use, alle vostre lunghezze, perché non esiste una risposta universale come non esiste un riccio universale. Dopo l'applicazione appunto di uno shampoo, un conditioner con risciacquo, io consiglio sempre un conditioner, quindi un prodotto idratante senza risciacquo. Anche qui non ce n'è uno universale, perché ci può essere per esempio una crema più pesante per un capello molto grosso, molto crespo, fino a un idratante spray più latticinoso, più leggero, per un capello più fine che magari ha bisogno di essere mantenuto più leggero. Tutti questi prodotti di idratazione senza risciacquo non danno tenuta, quindi sopra questi va aggiunto un prodotto di styling. Qui passiamo alla scelta tra mousse, gel, anche qui. Ovviamente dalla mia posizione non posso che dirvi che deve essere il vostro parrucchiere a consigliarvi una volta che ha toccato i vostri capelli, che voi avete esposto le vostre esigenze. Personalmente nel mio salone, quando una cliente è nuova, quindi ancora non ci conosciamo, faccio prima in negozio quello che ritengo più giusto per i suoi capelli e solo dopo valutiamo insieme il risultato, che poi di solito va valutato, come sapete bene, nei giorni successivi, perché un prodotto dice il vero dopo averci dormito una o due notti. Di solito per casa do dei piccoli campioncini per fare delle prove da sole, cioè quindi per capire se hanno più bisogno di una crema, di un gel. Sicuramente per un capello molto crespo non consiglierò questo tipo di spuma che è super idratante, però non ha gran tenuta. Andrò a utilizzare appunto un gel fluido che mi aiuta a scolpire meglio il capello. Una mousse può andare più bene per un riccio più fine, per esempio. Ricordo che come ho fatto vedere negli scorsi video, sia i gel che le creme vanno distribuiti chiudendo la squama, quindi senza fare subito questo movimento, ma solo dopo aver distribuito dappertutto. Questo vale anche per la spuma, perché la spuma può trarre in inganno a creare, a fare subito questo tipo di movimento. Detto questo, so di non aver dato la risposta alla, forse che speravate, alla vostra domanda, perché non c'è una risposta unica. Ma come vi ho detto, mi riprometto di vagliare ogni prodotto che ho in negozio per voi, di farvi vedere come funziona e magari di valutare anche prodotti di altre aziende, sempre professionali, per crescere insieme a voi, per darvi delle opinioni. E nei prossimi video vi parlerò anche dell'utilizzo o meno dell'olio sul capello riccio, se e quando è giusto utilizzarlo. Adesso vi lascio, spero di essere stata chiara, potete scrivermi nei commenti oppure su Messenger nella pagina Facebook Abracadabra di Elisa Marzuoli. Grazie e al prossimo video.